Almeno fino a metà Novecento il giardino napoletano ha raggiunto un livello ragguardevole in tutte le sue espressioni tipologiche, i giardini rinascimentali di Poggio Reale e della duchessa di Giuliano Damagliano, quelli barocchi di Palazzo Tarsia e di Santa Chiara, opera di Vaccaro, i sette ottocenteschi parchi e giardini di Capodimonte e di Palazzo Reale, della Floridiana e del Tondo di Capodimonte creati da Niccolini, il sistema dei giardini sacri, ad essi si aggiunge la diffusa e domestica tipologia del giardino d'agricoltura, agrumeto nascosto tra i palazzi del centro storico, come quello di Palazzo Venezia. Grazie a tutti.